Oh! Mi ha spento! E tu mi hai bruciato! Fa male! State bene! Dovresti tenere a bada tua figlia e tu pensa a tuo figlio! È meglio che stai lontano da me! Spero non ti sia fatto male! Quelle due sono due matte! È ora di riprendersi! Uh! Acqua curativa! Questo dovrebbe aiutare! Grazie! Mi sento meglio! Non devi frequentarla più! Oh! Ti ha quasi estinto! Devi riscaldarti! E non osare avvicinarti di nuovo a lui! Scusa mamma! Ricorda, non è un tuo amico! Non avvicinarti a lei! Ehi! Come stai? Ciao! Scusa se ti ho bruciato! Volevo solo fare amicizia! Niente! Potrà rovinare la nostra amicizia! Oh! Siamo di nuovo qui! Batti il 5! Ehi! Non c'è fuoco nei miei capelli! Ma che è successo? Figlio? Te l'avevo detto di stare lontano da mia figlia! Ehi! Il mio bambino! Smettila di piangere! Noi ce ne andiamo! Allora, ma che devo fare con te? Oh! Devo pensarci! Oh! Bastoncini infuocati! Li adoro! Temetemi! Oh! Mi stai spaventando! Oh! Non funziona! Penso che questo ci aiuterà! Le bolle di fuoco sono pronte! Wow! Che carino! Uno, due! Fermati! Non giocare con il lanciapiamme! È molto pericoloso! Ho preparato delle bolle per te! Guarda! Sono molto dense! Ciao ragazzi! Non fatelo anche voi! Questo è... Oh! È fuoco! Grande! E non è tutto! Ora abbiamo tutti i materiali giusti! Hai bisogno di aiuto? Grazie! Ritagliamo una striscia di pomeran e ora tocca a te! Passiamo lungo il bordo con la pistola! Intelligente! E aggiungiamo la franzia infuocata! Bello, no? Oh sì! Penso di potercela fare! Così! Wow! Mi piace! E non dimenticare questo! Oh oh! Ha funzionato! Oh! Di nuovo i poteri del fuoco! Questo è il potere del karate delle sirene! Il plusso del mare profondo! London Amala! Ancora! Wow! Stai facendo progressi! Continua! Caglia! Chi sono questi? Acrobati perdenti? Come hai detto, vuoi fare karate? Ok! Scusate, acrobati! Siamo dei veri combattenti! Non distrarti! Siamo combattenti di karate! Una tempestomarina! Oh no! Il mio acquario! Ho esagerato! Ehi! Così mi bagnerò! Devo occuparmi di questa crepa! Oh no! È difficile respirare! Wow! Il mio potere è tornato! Ti salverò! Wow! Questo è un miracolo! Tutti questi allenamenti sono stati molto utili! Grazie! Siate fantastici! Perché? Ne dubitavi, forse? Bene, bene, bene! Oh! Si è un po' sciolto! Ehi! Posso aiutarti? Puoi provare questo prodotto extra caldo? Oh! Sembra delizioso! Oh! Ha una cottura media? Sì! È buono, non credi? Ok! Allora lo proverò! Ops! Sei così divertente! Forse potresti usare un cucchiaio? Grazie! Non è così caldo ai bordi, giusto? Oh! Sa di fumo! Allora che ne pensi? Wow! Vuoi che parli con il cuoco? Sì! Chiedigliene ancora! Oh! Sei un buon gustaio! Faremo del ramen con questo! Ora va meglio! Ecco qua! Ho cambiato ricetta! Vuoi provare? Oh! Mi piacerebbe! Proviamo! Oh! Scusa! Che imbarazzo! Anch'io sono un po' imbarazzato! Vuoi assaggiarlo? Con grande piacere! Oh! Avete degli sconti per questo? Sei in fila? Ok! Prendo anche la gelatina! Ce l'ho fatta per un pelo! Adoro i fumetti! Ma cosa abbiamo qui? Luci! Fantastiche! Prendo anche queste! Oh! Fermati! È una festa, allora! Per favore, smettila! Oh! Basta così! Battene da qui! Oh! Ehi, signora! Questo dovrebbe aiutarla! Chiuda gli occhi! Oh! La mia faccia non brucia più! Lei è un mago! Grazie! È anche molto carino! Allora, che ne dici di un'altra porzione? Wow! Io so fare le cose più belle! E tu? Io so fare il fuoco! Guarda! Oh no! Abbiamo un problema! Quale? Oh no! Dobbiamo andarcene in fretta! Ma come faremo? Andiamo! Ti farò uscire da qui! In fretta! È proprio dietro di noi! Oh! Ci sta recuperando! Salvami! Tieni duro! Abbiamo quasi fatto! Ragazzi, per favore! Mettete un like a questo video! Così potremo sfuggire a quell'onda! Wow! Grazie! Sembra che abbiamo un problema! Questa è la fine! Ci salverò! Tieni duro! Ce l'avevo detto! Come accenderemo? Pensavo lo sapessi! Ce l'abbiamo fatta per un pelo! Meno male! Oh! Siamo felice di vedervi! Ciao a tutti! Che ne dite di un drink? Grazie! Ok! La festa è fantastica! Grazie ancora! Ora devo andare! Ecco! Prenda il suo cocktail! Può tenerlo per me! Oh! Non quello! Ok! Forse lo vuoi anche... Puoi cavalcare con questo! L'acqua non ti raggiungerà! Ok! Sono certo che ti piacerà! Oh no! Sto per cadere! Oh! Non sto a nuotare! Cosa? Perché non me l'hai detto? Fuoco! Forza! Aiuto! Salvatela! Bruceremo tutti! Oh no! È stato risucchiato! Oh! Ce l'ho fatta! Perché stai urlando? Oh! È imbarazzante! Il nostro amico! Lo rivolgiamo come era! Ok! Ci pensiamo noi! Wow! Per un attimo ho pensato che fosse la fine ed è tutta colpa tua! Non preoccuparti! Se è tutto a causa di un paio di bicchieri rotti, allora sistemerà tutto! Fidatevi di me! Guardate e imparate! Che ne pensi? Sembra un cristallo! Wow! Che bel trucchetto! Hai visto? Fantastico! È incredibile! Puoi farne un altro paio? Wow! È veramente incredibile! Ci vediamo! Allora? Giochiamo? Sono pronta! Anch'io! Allora spostati! Non provarci nemmeno! Sono il miglior pastellatore! E che ne pensi di questo? Ehi! Questo non vale! Troom treat! Ma che succede? Ancora? Cara, non ti arrabbiare! Oh oh! Credo sia troppo tardi! Smettetela! Ve l'ho già detto di non giocare in negozio! Giocate fuori con questa palla! La nostra palla! Oh oh! Cosa abbiamo qui? Pensavi di poter scappare da me? Presa! Anch'io ti ho preso! Oh oh! Lasciami andare! Oh no! Abbiamo perso la nostra piccola fuocherellina! Dovevo pensarci io! Ehi! Cos'è questa strana luce? E questa pelliccia è sospetta! Il primo indizio l'ho trovato! Questa è una prova! Non ce la faccio! Papà, guarda cosa ho trovato! Belliccia rosa! Oh oh oh! Nessuno lo sa! Due elementi di acqua e due di fuoco ricaricheranno la mia pistola a vapore! E Aggie sarà di nuovo libero! Oh Aggie! Mio povero Aggie! Presto il tuo cuore si scongelerà! E staremo di nuovo insieme! Pedala avanti in fretta! Lo sto facendo! Non osare toglierle! Tu! Oh! Che caldo! Sei così forte! Ecco un livello più difficile! Questo ti rinfrescherà! Oh oh oh! Tirò la pistola a vapore! E tu sarai la prima! Ti prego, non farlo! Trick! Vedi? Niente catene! Tre elementi! La tua famiglia ti raggiungerà, Amber! Non preoccuparti! Aspettami, Aggie! Molto presto ti libererò! Woohoo! Cosa? Oh no! Non è abbastanza! Cosa? Credo che sia qui! Con me andiamo! Tieni duro! Non ci riesco! Non c'è dubbio! Devo dirglielo! Per favore, non bagnarli! Scusa! Ma mi prendi in giro? Papà, posso attare nelle fogne! Ma certo! Non si attaccano così! Guardate, lì c'è Amber! Oh! Amber! Oh, guarda! Penso che sia lì! Che famiglia! Come ti è venuto in mente? Beh, ok! Ma cos'è? Oh, tartarughe ninja mutanti! Ehi, tu! Ehi! Che vuoi? Che c'è? No! Non ti lascerò passare! Avanti, combanti! Aspetta! Sai di chi è questa pelliccia? Interessante! È sicuramente quella che ha rapito mia sorella! Di che stai parlando? Quel mostro l'avrà già fatta a pezzi! È terribile! Ti aiuterò! Guarda cos'ho! Ninja bomba fumogena! Boom! Ora è tua! Perché? Vuoi che scatti l'allarme antincendio? Lascia che ti faccia vedere! Ma dove è andato? Non vedo niente! Ehi! Stile ombra! Kawabanga! Oh! Wow! È una figata! Sono d'accordo! Ma usalo con molta saggezza! Spero che tu possa riavere tua sorella! Fantastico! Come hai detto che funziona? Di nuovo quel fumo! Ma dove è andato? Eccomi! Shkaiya! Sei un grande ninja! Beh, questa è l'ultima, amico! Grazie, Raph! Buona fortuna! Anche a te, caro! Ciao! Penso che sia lì! Non l'abbiamo ancora trovata la mia Amber! Mi dispiace di averti urlato contro! Bene, bene, bene! Ed ecco il secondo elemento! Che sei? Butta questa pistola! Che caldo! Ma che hai fatto? Che pesante! Te l'ho fatta! Torna subito! Non muoverti! Oh, aspetta! Tanto non puoi farlo! Volevo solo qualche marshmallow arrostito! Caldi e buoni! Sono deliziosi! Ehi, non sono un camino! Lasciami andare! Uno, due, tre! Il fuoco è sconfitto! No! È stato facile! Non c'è di che! Ciao, ciao! Fuoco! Strum! Ho il secondo elemento! Ora basta aggiungere un po' d'acqua! Pronto? Tesoro? Mi senti? Solo beep! Rispondi al telefono! Oh no! Anche tua madre è scomparsa! Beh, almeno la patua è bella! Devo chiamare la polizia! Se ne occuperà l'agente Kat! Ho tanta paura! Kat, sei tu? Certo che sono io! Che ti serve? Mia moglie e mia figlia sono scomparsi! Aiuto! Non riesco a trovarle! Ho capito! Quindi sono di fuoco, hai detto? Credo ci sia lo zampino delle gambe lunghe di Mommy Long Lanks! Ma come hai fatto a farti assumere? Guarda qua! Tutte le prove puntano su Kissy! Nella contea di Trumville, alieni scomparsi, tutti i fatti indicano che Kissy è la colpevole! E probabilmente ha già fatto loro del male, capisce? Stiamo parlando di alieni! Prendi questo! Perché? Non mi serve! Come faccio a farti capire come stanno le cose? Guarda qua! Devi andare da un dottore! Cosa? Hai la febbre? Basta così! Torna da dove sei venuta, gente stagnola! Oh, accidenti! Adesso! È proprio quello che volevo! Devo solo raccoglierci l'acqua! Ma non gli rovinerò la sorpresa! Quindi forse non è lei! Oh, salve! Salve! Come va? Oh, è un po' strano! Ma dove ti ho già visto? Bene, scegli quello che vuoi! Qualcosa dallo scaffale più lontano che c'è! Vuoi una barretta o un succo di frutta? Questo? No! Posso prendere qualcosa da quello scaffale? Ma certo! Cercherò qualcosa di insolito! Ma che succede? Perché sforzarsi inutilmente? Bene, ragazzo d'acqua! È ora di riunirsi alla famiglia! Papà, attento! Non sparare! Papà, mi sta portando via! Tieni duro, pigliolo! Wade, afferra la mia mano! Forza! Ci siamo quasi! Oh, ragazzi, per favore aiutateci! I vostri light fermeranno quella terribile pistola! Ti ho quasi raggiunto! Forza, ragazzi! Un po' di più! Oh, ha funzionato! Ci è mancato poco! Papà, no! No way! Salvati! Oh, sì! È così spaventoso! Ora sono tutto solo! Che posso fare adesso? Avrei dovuto sparare! Ma non avrei colpito nessuno con questo jet d'acqua! Oh, il telefono della mamma! Mi manchi così tanto e ti voglio tanto bene! Mi dispiace non averti salvata! Mamma mia, che brutta cosa! Ma che succede, piccolino? La mia famiglia è stata rapita, tutti quanti! Che orrore! Mi dispiace tanto! Aspetta! Si possono ancora salvare! Lo farei io, ma guarda la mia gamba! Sei la loro ultima speranza! Alzati! Ti preparo per la battaglia! Grazie, Mario! Ok, ora sei pronto! Combatterai per la vita della tua famiglia! Stai att... Sì, lo so! E sono pronto a tutto! Attenta, Kissy! Andiamo! Ok, vai! E buona fortuna! Oh, cielo! Ho quasi finito! Basta con le sofferenze! So che anche tu non vedi l'ora! Manca poco, tesorino! Ho quasi tutti gli elementi! Kawabanga! Oh, ma cos'è? Da dove viene il fumo? Non vedo nulla! Chi c'è? Vieni qui! Non puoi nasconderti! Devo salvarli mentre Kissy è distratta! Non muoverti! Oh! Ma chi è stato? Colui che li salverà tutti! Oh, mascarzone! Dammi quelle palline o te ne pentirai! Prova a prendermi! Credo che ora sia un po' arrabbiata! È un bene che tu sia qui perché ora ti prenderò! È troppo presto per gioire! Insieme siamo forti! Uh-uh! Le tue ultime parole? Di addio alla tua vita! Siamo i più forti! E anche i più cool! Facciamogli vedere! Perché porti quegli occhiali? Scusa, cara! Ora sono serio! Non potrete sconfiggermi! Posso usare tutti i miei poteri! Stupidi elementi! Vi distruggerò uno per uno! Andate via! Non credo proprio, Kissy! Attacco! Oh-oh! Ce l'ho fatta! La resistenza è inutile! Non pensare alla pistola! Tienila! Ho le manette! Oh sì! Ce l'abbiamo fatta! Ma come? Questo significa che Huggy rimarrà congelato per sempre! Mio caro! Mi dispiace! Ho fatto tutto quello che potevo! Che tristezza, caro! Aiutiamo Kissy tutti insieme! Siamo pronti! Il potere dei quattro elementali! Evviva! Finalmente sono di nuovo libero! Oh, Huggy! Mi sei mancato tanto! Grazie! Ora possiamo giocare! Vieni con noi! Ehi, ridammelo! Ma che è successo? Ridammelo tu! È mio! Adoro questo tipo di shopping! Oh, che cattiva! Prendi questo! Il mio fuoco! Sembra che qualcuno si stia bruciando! Non parle del male! Ora accenderemo un vero fuoco! Grazie! È proprio quello che mi serviva! Non mi ha da ardere, ladruncolo! Ok, ok! Ora smettila! I miei capelli! Aiuto! Sembra che ci sia un problema con il negozio! Oh, no! Non possiamo scappare proprio ora! Fidatevi di me! Ecco la marea dell'oceano! Grazie! Ci hai salvati! Avanti! Cos'è che volevi dire? Non essere così cattiva! Sono vostri questi soldi! Ecco, prendeteli! Grazie! Certo perché ho spento il fuoco! Certo perché sei un eroe! Vuoi unirti a noi? Lavoro da solo, ma grazie per l'offerta! Oh, addio! Ah, figliolo! Credo che questo possa tornarti utile! Ma cosa posso farci? La tua cintura ha bisogno di essere aggiornata, quindi preparati! Ritagliamo degli anelli! Ora li incolleremo lungo la cintura! Prendi la pistola! È già calda! Grazie, figliolo! Ora va molto meglio! Ti piace questa cintura? Provala! Oh, è proprio della misura giusta! Ora sono il più figo! Proprio così! Aspetta! È qui tutta sola! Che bellezza! Non avrei mai pensato potesse essere così bella! Oh, quindi ama l'acqua! Chissà se le piacerà anche questa! Oh, è strano! Wow! E non è tutto! Voglio mostrarti qualcos'altro! Sei davvero incredibile! È la cosa più bella che abbia mai visto! Come hai fatto? Ti fidi di me? Dammi solo un minuto! Posso chiederti di ballare? Certo! Era così tanto che lo sognavo! Non ci stiamo neanche sfiorando! Ma io riesco a sentirti! Wow! Credo che tu mi abbia fatto girare la testa! Oh, grazie per questa danza d'amore! È reciproco! Penso sia ora di tornare indietro! Oh, signora Pizia! Puoi dire se possiamo stare insieme? Ah, c'è solo un modo! La cartomanzia con le stelle pilanti! Ora lo scopriremo! Oh, palla magica! Questi fortunatelli staranno insieme! Per favore, le luci! Lasci che lo faccio io! Pronto? Bene! Ora tu! Ma io sono fatto d'acqua! Però d'accordo, ci proverò! Solo un secondo, devo trovare l'angolo giusto! Con questo ragazzo ti troverai molto bene! Ce l'hai fatta! Le lezioni di fisica sono state molto utili! Oh, sì! Vedo il vostro futuro felice! Hai sentito? Io non ne dubitavo affatto! Wow, questi effetti speciali! Oh, un po' spaventosi! Ma così affascinanti! Ma da dove viene tutta questa luce? Me ne occuperò io, cara! Ora nessuno ci disturberà! Ehi, guardate che c'è qui! Ce n'è per tutti quelli che hanno soldi! Buon appetito, piccolino! Adoro i soldi! Ehi! Mi piacerebbe provare questo! Piace! Ma tu non vai d'accordo con il mio gelato! Spero che il tuo gelato vada d'accordo col fuoco! Troom trick! Che hai fatto? Non ti conviene giocare con il fuoco, amico? Che faresti senza di me? Oh! Non basta! Oh, certo! Gelato! Oh! Oh voi, piccoli criminali! La pagherete per questo! Corri! Lo fermerò! Oh! Sto scivolando! Oh! Che spigato! Perdente! Perdente! Guarda! Oh, non è niente! Bambini, siamo a casa! Ciao, mamma! Aspetta, perché sono insieme? Oh! Oh, questi bambini! Vi abbiamo portato una cosa! Oh! È bello! Anche a me piace! Finalmente ora è tutto a posto! E siamo di nuovo insieme! Oh! Credo che questo sia amore! Oh no! Tesoro, guarda! Forza, alzatevi! Non abbiamo paura dell'acqua! Prendi questo alluvione! Fa troppo caldo! Ma sta andando tutto bene! Continua! E voi? Non preoccuparti! Dobbiamo salvare il negozio! Oh! Troom trick! Sembra che il negozio sia salvo! Ce l'abbiamo fatta! Oh no! I nostri ragazzi! Perché? Questo è così ingiusto! Mamma, nasconditi! Sta iniziando a piovere! Aspetta qui! Tesoro, ti bagnerai! Sono i nostri amici! Non possiamo lasciarli qui! È tutto così bagnato! Guarda, sta funzionando! Mamma! Wow! Troom! Oh wow! Sono così felice che tu stia bene! Caro, sono così felice! E qualcuno deve andare a scuola! Dai mamma! Non fare tardi! È il tuo primo giorno! Cesso, scongelalo per favore! Puoi? Fuoco! Preoccuparti! Cosa? Non è per questo che l'ha portata! Wow! Come sei arrivato qui? Vieni fuori! Vuoi sposarmi? Non posso crederci! Sì, sì che lo voglio! In realtà non ce l'ho con te! Ce l'ho con Amber! Oh, mi stai rifiutando! Come osi! Allora basta! Ti rimetto nel barattolo! Ma dai! Neanche ci conosciamo! Beh, ora ci conosciamo! Oh oh oh! Terra è il mio Wade! Povero Wade! Sto arrivando! Non riesco a respirare! Ho bisogno di aria! Ehi, ci sei? Signora, posso aiutarla? Oh! Pensavo di soffocare! Grazie tesoro! Seguimi! Che figata! Ok, penso che questi ti serviranno! Set da futura sirena! È così bello! Diventerà la migliore sirena! Non così! Prima completare alcuni passaggi! E solo dopo diventerai una sirena! Cominciamo dal trucco! Siediti! Cos'è? Ora lo vedrai! Aggiungiamo del ghiaccio e dei glitter di diversi colori! Il blu e il verde andranno benone! Fantastico! Prepariamo le armi! Mi stai spaventando! Ti prego! Non farlo! Non sparare! Ehi, non muoviti! Avanti! Oh! La mia faccia! Dovrei dare un'occhiata! Il mio fuoco! Ehi! Leva questo affare da me! Ma questo è solo l'inizio! Room trick! Iniziamo! Cosa? Per favore non farlo! Oh! Wow! Niente male! Mi piace! Anche a me! Primo punto completato! Ottimo lavoro, tesoro! Sono bellissima! Ma dobbiamo lavorare un po' sui capelli! Che ne dici di un panino caldo? Cosa? L'hai bruciato! Ops! Non l'ho fatto apposta! Sbarazziamocene! Ok! E ora seguimi! Arrivo! Scegli! Ci sono parrucche per ogni gusto e preferenza! Questa ti piacerà! Provala! Vediamo! Oh! Si sta sciogliendo! Toglimela in fretta! Non ha funzionato! Allora piano B! Perché sono così sfortunata? Sarai una sirena cowboy! Esistono! Piccola! Toglimelo! Che c'è che non va in me? Rilassati, Amber! Non preoccuparti! Sei nelle mani di una vera maestra! Spazzoliamo questa criniera! Uh! Che male! Wow! Non riesco ad arrivare ai suoi capelli! Ehi! Mi devi una spazzola nuova! Abbiamo bisogno di misure più urgenti! Metterà un freno a tutto questo! Incredibile! Ce l'hai fatta! Fantastico! Molto meglio! Ci stiamo avvicinando all'obiettivo! Bene! 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 Questa Amber non riesce a calmarsi! E tu! Mio caro! Abituati a vivere con la tua Ursula! Ora staremo insieme per sempre! Oh! Non vedo l'ora che arrivi il giorno del matrimonio! Sarò una sposa meravigliosa! Wade! Proviamo! Sei pazzo! Fammi uscire! Tesoro! Stai benissimo! Che schifo! Smettila! È così timido! Ma ci penserò io! A noi! Ehi! Non c'è nessun noi! Oh cielo! No! Oh davvero? Ok! Ti insegnerò a diventare più gentile! Vedrai! Non esiste! Sembra acqua! Ma è così irascibile! Mi piacciono i ragazzi che hanno carattere! Ne vuoi un po'? Oh! Mettila via! Non ha fame! No no no! Abbiamo così tante cose da fare! Ciao Ursula! Sì certo! Sono già lì! Stanno arrivando! Ok! Iniziamo l'operazione di puntura della medusa! Sono in punizione! Piccola vai! E adesso che c'è? Forse un vestito o la pinna? Oh no! Amber! Aiuto! Ma che è successo? Stai lontano da me! Conosco il karate! Non funzionerà! Dove nascondermi! Aha! Ok! Credo di aver trovato un punto cieco! Fantastico! Ora giochiamo! Oh! È meglio che tu stia attenta! Ecco quello che succede quando te la prendi con le mie amiche! Oh! È esilarante! E ora aggiungiamo un nuovo bersaglio! Oh! Forza! Diamo un'occhiata alle tue capacità! Occhio al bersaglio! Ciao ciao! Ce l'ha fatta! Cos'è? Penso che mi tornerà utile! Fantastico! Ho un'idea! Speriamo funzioni! Volevo solo fare un top da sirena! Tagliamo il tessuto per ottenere le squame! Ci servirà un po' di colla! Aggiungiamo qualche dettaglio! Pronti! Ma voglio che sia lucido! Questo sistemerà tutto! Incogliamole insieme! Veramente fantastiche! Queste squame sono così belle! Userò anche gli avanzi! Wow! Sarà molto elegante! Fantastico! È ora di provare un look da mare! Stupendo! E c'è anche un braccialetto! Davvero fantastico! Ehi! Ridammi tutto quello che hai preso! Puoi sognartelo! Se mi sconfiggi ti darò una coda! A fare patto! Vai! Nessuno mi ha mai battuto a questo gioco! Preparati a perdere! Avanti! Oh! Ah ah! Te l'avevo detto! Ho perso! Ehi Amber! Mettimi come portiera! Grazie tesoro! Questo non ti aiuterà! Wow! Prendi questo! Sì! Ora sei nei guai? Campo di fuoco! Fermati! Non vedo nulla! Non può essere! Ho vinto! Dov'è il mio premio? Ok! Hai vinto! Ma non è giusto! Ed è anche della mia taglia! Oh ok! Possiamo aggiornare la mia lista! Abbiamo la coda! Ora ci serve solo una forzina! Oh! Questo mi starà bene! Tutte le ribelli finiscono qui! E voi Wade non fate eccezione! Non vedrete mai più la libertà! Che sciocchezza! Sta parlando con dei vasi! Venite a me! Sì padrona! Eccoci! Voi due occupatevi di quella Amber! Sì signora! Conti bollenti! Oh! È proprio quello che volevo! Uhuh! Beccata! Non potrai sfuggire alla trappola di Octo! Ah! Eh! Eccoci qua! Cosa? Ma questo da dove viene? Ehi tu! Difenditi! Di cosa hai bisogno? Sono Octo! La tempesta dei mari! Preparati a perdere Amber! Uh! Che incubo! Sono in trappo la cosa! E adesso che faccio? Oh no! Il muro è quasi distrutto! Ci sono! Ragazzi! Per favore aiutatemi! Ho bisogno dei vostri voti per riparare il muro! Vi imploro! Uhuh! Ha funzionato! Grazie mille! E ora tocca a me! Ho finito le munizioni! Me lo presti un attimo? Cosa? Oh no! Non ti perdonerà mai! Hai bisogno di questo, vero? So che ne hai bisogno! Oh no! Wade! Ti salverò io! Ops! No! Andiamo! Oh! Spero di non essere in ritardo! Eccoti qui! Hai affrontato Octo! Ma non sconfiggerai me! Braccio di ferro è il mio elemento! Non dirai sul serio, vero? Pensi alzassimo la posta in gioco? Che ne dici di una forcina? Oh no no! Hai detto forcina? Beh, allora ci sto! Forza, granchietto! Forte! Ma non mi arrenderò! Ha ora di penerla! Oh! Non potrai vincere! Ora sono furiosa! Ho vinto! Non può essere! Salutami Octo! Ed ecco il mio premio! Oh wait! Aspettate un attimo! Non è lui! Mi hanno ingannata! Beh, almeno questa forcina è vera! Vediamo! Mi sta bene! È figa! Amber! Potrebbe servirti questo! Non riuscirai a sconfiggere Ursula senza un tridente! Prendilo! Wow! Forte! Quasi dimenticavo! L'ultimo passo! Oh! Ce l'ho quasi fatta! Ora ho l'intero set! Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sirena! Ok ragazze! Quando avrete finito non voglio vedere neanche una singola pietra in piedi! Oh! Amber non mi ostacolerà più! Controlliamo! Che strano! Pronto? Da quanto tempo non ci vediamo, Amber? Wade è qui! Ursula, lascialo stare! Oh, davvero? Allora fermami! Lo salverò io! Lasciami andare! Ma dov'è? Hai sentito? È qui! Occupiamoci di lei! Ma perché? Io tu hai una pistola! Come funziona questo affare? Ma è rotta? Oh! Oh! Chi c'è qui? Svegliati, sorellina! Oh, che brutto momento! Ok, ci penso io! Vattene da qui o te ne pentirai! Oh! È stato terribile! Cosa? Ops! Ciao, ciao! Ora va meglio! Un'altra vittoria per Amber! Ehi, ma che succede? Da dove viene questo fumo? Oh, tu! Ho bisogno di Wade! Se hai così tanto bisogno di lui, allora prendilo! Oh, non ce la fai! Smettila! Ne ho abbastanza! Wade non sarà mai tuo! Oh, il gattino ha liberato gli artigli! Allora ho una sorpresa per... Oh, sono di nuovo in piamme! Cosa? No! Finalmente sono tornata nel mio corpo, Amber! Grazie per avermi salvata! Wade, sono così felice di vederti! È impossibile! Non lo permetterò! Wade! Wade, il mio cuore! Non ce la faccio! Smettila di soffrire! Ha funzionato davvero! Ottimo lavoro! Ora possiamo attaccarla! Oh, sì! Mondo crudele! Oh! Sta fermati! La mia faccia! Vi odio! Ne vuoi ancora? No! Wade, ha funzionato! Ora la finirò! Per favore, non farlo! Non siamo così malvagi! Dobbiamo perdonarla! Ma come? Dopo tutto quello che ci ha fatto! Ho paura! Allora vattene da qui! Figlio, ti ricordi? Ti stanno aspettando alla stazione di polizia! Devi servire il paese! Sì, signore! Lo descriva! Ciao! Oh, eccoti qua! Allora, vuoi lavorare per noi? Sì, posso avere un'arma! Dopotutto sono un poliziatto ordinario! Prima ti daremo un uniforme! Oh, sembra fantastica! Oh, e non è tutto! Wow, grazie! La mia moto di servizio è molto meglio di una pistola! Pronto? Che è successo? Certo, sto arrivando! Oh, fine della connessione! A tutta velocità! Andiamo! Lei! Portatela in prigione! È ora di andare in prigione, nerd! La festa per te è finita! Ma non è giusto! Fatemi uscire! Aspetta, ti richiamo! Ricordati che i nerd non sono figli, ma le sirene regnano! Perché mi fai questo? Oh, no! Anche lei non è stata invitata? Stai bene? Tu che ne pensi? Devo farti una foto! Ragazzi, ho un servizio fotografico! Non sorridere! Non avevo intenzione di farlo! Fantastico! Credo di avere un piano! Esattamente quello che mi serve! E ora preparo la mia coda da sirene! Pronta! Ho portato un treppiedi! Sei pronta? Certo, agente! Le sirene sono sempre pronte! Ti ho detto di non sorridere! Non c'è bisogno di urlare! Abbiamo delle regole! Che mostro! È più gustosa! E quest'acne è così grande da spuntare persino fuori dalle foto! Ma grazie! Beh, almeno ora riuscirò a mettere questa foto nei fascicoli! Beh, grazie! Non flirtare con me! Torna in cella! Volevo solo ringraziarti per avermi tolto l'acne! Ora è bellissimo il mio viso! Questo cos'è? Guarda, abbiamo un piano! Wow, ragazzi! Dove l'avete presa? E comunque, ho già una pelle perfetta! Che ne dici di un nuovo taglio di capelli? Sono d'accordo! Iniziamo! Allora hai bisogno di questo! Non l'ho mai usato! E non lo farai mai perché è mio! Ma è solo per un paio di minuti! Che stai facendo? Ho il mio piano! Wow, così in fretta! È ora di scappare! Questo mi servirà! Spero che nessuno se ne accorga! Che c'è di meglio di una vecchia ciambella? Aspetta, dove sono i prigionieri? Stanno scappando allarme! Codice rosso! Codice rosso! Non pensare che non ti prenderà a nerd! Ah, ci incontriamo di nuovo! Oh, il profumo della libertà! Fai un respiro profondo! Oh, no! La tua passeggiata è finita! Ora torna in cella! Dovrò agire secondo il piano! Non te la prendere, tesoro! Ho preso l'ariccia capelli per te! Wow, è così bello! Mi piace! Posso provarlo? Arricciamo una ciocca e accendiamo questo gadget! Davvero adorabile! Ottimo! Un altro punto completato! Non sono mai stata così bella! Chi è? Ehi! Vuoi qualcosa di proibito? Guarda qua, io ce l'ho! Interessante! Non mi dispiacerete un blaster? Io prendo un joystick! Anch'io! Giù le mani! Ho una cosa per ognuno di voi! Ok, allora lo scambio con un ferro arricciacapelli! Tesoro, non ci vediamo da tanto! Perché hanno tolto il beccuccio? Non se li lavano i denti! Posso provarlo, anch'io ne ho davvero bisogno! Questo non è igienico! Ma sono pronta a dartelo in cambio di uno scheletro di sirena! Ti prego, ti supplico! Stai parlando di questo? Prendilo! Ti do anche la parrucca! E ora ti mostrerò al mondo intero! Ciao, ciao! Wow, ha funzionato! Devo capire con cosa è fatto questo joystick! Ciao, questo è il negozio della tua prigione! Vuoi comprare conchiglie che siano di unico sto e colore? Oh, fantastico! Le prendo! Bad boy, bad boy! Che parete! Oh! Stai scappando? Questo è strano! Provo ad attaccargli un chip! Ottima idea! Troom, zoom, trick! Download del programma di controllo completato? Sì! E ora andiamo al negozio! Così! Oh! E se... Spero che questa sia la mia taglia! Buon pomeriggio! Dammi le consiglie e la vernice, per favore! Certo! Ufficiale! Missione compiuta! Ehi! Missione compiuta! Grazie mille! Oh! Cos'era quello? Ho bisogno di una vacanza! Fantastico! Perfetto! Possiamo tagliare la parte superiore! Oh! Non gettare i chip in giro! Meglio collegarli al nostro computer! Per fortuna ho una laurea in hacking! Giochiamo! Fantastico! Che gioco è? Fidati! Mi piacerà! Sapevo di non potermi fidare della piovra! Wow! Che bella coda! Oh no! Uno squalo! Devo stare attenta! Schivato! Devo uscire da qui! C'è una serratura? Ragazzi! Aiutatemi a prendere questa coda! Dovete mettere mi piace a questo video per aprire il lucchetto! Frigatevi! Per favore! Grazie mille! Siete i migliori! Wow! Si adatta perfettamente! Sto arrivando squalo! Ora te la vedrai con me! Sì! Sono io la vincitrice! Abbiamo un nuovo arrivato? Non ne hai diritto! Il fatto che tu abbia mangiato un nerd dice già qualcosa! Ehi! Che ci fai tu qui? Spostati! Scendi o mi schiaccerai! È così comodo! Non pensavo lo fosse! Aiuto! Sono sopravvissuta a malapena! Oh! Perché sono così sfortunata! Prendo anche questo! Ora sì che sto bene! Non è giusto! Pranzo! Giusto in tempo! Oh sì! Dobbiamo occuparci di questo tizio! Non fare dal male alla mia amica! Ehi! Lasciami andare! Sono allergico ai crostacei! Questo ti insegnerà qualcosa! Lasciami andare! Ti prendo! Fammi uscire! Fammi uscire! Non ce la faccio più! Andiamo! Ma come fa a farlo? E ora mi levo pure la pelliccia! Che sollevo! E ora le gambe! Fatto! Dovevo cambiare aria! Ora cercherò di andare in un'altra prigione! Buona permanenza qui dentro, perdenti! Girati! Vuoi andare da qualche parte? Nessuno è ancora scappato da me! E' tutto! E' ora di lavorare! E niente sorprese! E ora, miei cari prigionieri figri, mettetevi al lavoro! I vostri pennelli! Iniziate a dipingere! Questa è la mia occasione per completare un altro punto! E' ora di passare al make-up! Huggy, puoi distrarre la guardia? Ma certo! Ehi, questa prigione è stupida! Ehi tu, non ti muoveri! La prigione sarà la tua nuova casa! E non osare più dirlo! Non posso affidarvi neanche un compito semplice! Tornate in cella, muovetevi! Non vi farò più uscire! Questo lo vedremo! Guarda cosa ho trovato! Passiamo al trucco! Utilizziamo le strisce di stencil per rendere le liner uguali su entrambi gli occhi! Il blu mi starà benissimo! E' così carico! Oh, forza ragazza! Ok, iniziamo! Così! Con attenzione! Penso che sia fantastico! Aggiungiamo un po' di verde! Ora sono una vera principessa sottomarina! Ovviamente una sirena deve avere delle bellissime ciglia! Perfette! Ehi, questo cos'è? Credo che questo ti servirà! Grazie tesoro! Un po' di brillantini non guastano di certo! Guardate quanta bellezza! E ora il tocco finale! Il rossetto! Sono stupenda! Che succede? Sei tu, polipo cattivo! Anche se... So cosa posso fare! Disegniamo qualche squama! Vediamo che figata! Ora puoi cancellare la voce trucco! Dove stai andando? Ma sono a pari tuoi! Ehi, ridammelo! Ma dove lo stai portando? Non potrai certo nasconderti da me! Ed ecco la lista! Aspetta, questo è il negozio di giocattoli! Credo di aver trovato la via d'uscita alla libertà! Oh! Ha bisogno di un ribranding! Te lo immagini? Quella è la mia prigioniera! Ti prego, non farlo! Oh no! Come ha fatto? Game over bambola! Oh, non toccare più la mia roba! Non l'ho toccata! Wow, cos'è? Credo sia la chiave per la libertà! Oh! Sciocca! Te l'ho fatta! E ora avanti! Brigatevi! E niente trucchetti! Vi tengo d'occhio! È chiaro? È il momento di usare i muscoli e tu non puoi fermarmi! Facciamo vedere a quel piccoletto chi è che comanda! Sembra che io sia pronto per un nuovo peso! Aspetta, ti aiuterò ad uscire! Cominciamo con te! Wow! Un cavo? Penso di poterci fare qualcosa! Un paio di nodi qui! Un paio di nodi là! Fantastico! E ora proviamolo! Appoggiamolo intorno alla mano! Posso aggiungere qualcosa tipo perle! Fantastico! Incastriamo le perline! Guarda! Sono montagne russe! Il mio gioiello è quasi pronto! Wow! Che meraviglia! E ora... Un clic! È un capolavoro! E allora novellini! È il momento di darvi una lezione! Vi farò vedere perché mi chiamano Big Mike! Uno... Due... Ok! Mi sono riscaldato! Questo è il vero potere! Wow! È arrivato il momento di combattere! Ora tocca a me! Forza! Apperriamolo e... Oh! È così pesante! Lo spettacolo è finito! Qualcuno può aiutarmi! Non di nuovo! Il mio Sharky! Che ti ha fatto questo? Che brutta cosa! Devo aiutarlo! Inizierò con un massaggio cardiaco! Sì! Ce l'ho fatta! Oh Sharky! Sei di nuovo con me! Pesteggiamo con un ballo di Fortnite! Grazie! Ed ecco la ricompensa per il tuo aiuto! È per me! Grazie! Mi si addice perfettamente! Credo che tu possa controllare la lista! Ottimo lavoro! Wow! Congratulazioni! Visto che non sei più una nerd ma sei una sirena, ora puoi andare! Grazie, gente! L'avete vista? Mia moglie è scomparsa! Oh! Eccola! Tesoro! Mi sei mancato tanto! Se ne sarà di me! Adottatemi, vi prego! È un ottimo curriculum! Penso che ti troverai bene! Wow! Grazie mille! Cos'è questo? Porti! Che ne dici di un film? Ci sta! Allora andiamo! Posti migliori! Questo è il posto giusto! Non così in fretta! I vampiri non possono entrare! Sono le regole! Oh, che tristezza! Ok, ci vediamo! Fermati! Non vogliamo sedili bagnati! Un attimo! Ci penso io! Ehi! Piano, Dentone! Non ci ostacolerai, ragazza mortale! La strada è libera, tesoro! Andiamo! Almeno asciugate i sedili dopo! È stato un film molto bello! Lo guardiamo di nuovo! Oh, un attimo! Dimenticavo! Grazie per aver fatto finta! Non c'è problema, Dentone! Grazie! Vediamo che succede adesso! È il momento dell'acconciatura! Credo di aver visto un trucchetto su YouTube! Lo farò vedere alla mia bambina! È fantastico! Possiamo farlo anche noi? Proviamo! Se sei pronta, accendo l'aspirapolvere! Mettiamoci al lavoro! Per prima cosa, metteremo tutti i capelli in uno chignon! Avanti! Figo! Non muoverti! Ora ci penso io! Cosa? Che è successo? Ehi, ma dove sei? Bambina, sei qui? Prima lei, ora le mie labbra! Tesoro, ma che succede? È tutta colpa dell'aspirapolvere! Come ha osato! Bene! Ti sfido a duello! Allontana il tuo sacco dal mio amore, macchina infernale! Ti faccio vedere io quello che succede se ci provi con la mia donna! Prendi questo! Oh, Bambi, sei così carino! Piccola, stai bene! Oh, wow! Ti piacciono i miei capelli? Sì, sei molto elegante! Però facciamo una treccia! Sarà una combinazione super! Wow! Grazie, sono così belli! E sembro così diversa! È stata una dura lotta! Ma ho vinto io! Sono il campione dell'aspirapolvere! L'unica cosa che Ursula ha dato loro è stata la farina d'avena! Oh, per favore, basta! Ma che razza di mostro è? Ho paura! Salvami! Ma che succede, piccolo? Quella terribile Ursula è proprio lì! Non hai niente da temere! Dai, non pare il fifone! Sei un vampiro! Sì, hai ragione! Ho qualcosa per te che ti aiuterà! Quando indosserai questo mantello, tutti avranno paura di te! Capito? Devi essere coraggioso e audace! Perfetto! Ora sono un vero vampiro! Forte, batti il cinque! Ehi, ma chi ti credi di essere, eh? Giusto! Giù le mani! Oh, ok, ho capito, va bene, non ti tocco! Questo sì che è il mio ragazzo! Bene, bene, bene! Puliamo! Tesoro, vuoi sposarmi? Ora? Non sono pronta per questo! Cosa? Dopo tutto quello che abbiamo passato? Dovresti dire di sì! Questi trucchi non funzionano con me! Ragazzi, pensate che dovrei dire di sì? Allora mettete un like a questo video! Hai visto, Vamp? Oh no, ragazzi, vi prego! Mettete un like! La sirena è il mio unico amore, grazie! Wow! Ok, d'accordo! Non te ne pentirai, cara! Lascio che abbracciare! Wow, congratulazioni! Non vedo l'ora di andare in luna di miele! Ora siamo sposati! Quindi, condividiamo le facciande domestiche! Sono così figo! È legale? Ehi, voglio anch'io quella cravatta! Per favore, dammela! Smettila ora! Dammela, oppure ti strangolo! Ok, va bene! Però prima dobbiamo personalizzarla! Questa cravatta sarà bellissima! Aggiungiamo delle catene! Che belle! E un paio di dettagli! Questo giabbo a tonero aggiungerà un po' di aristocrazia! E ora il mio piccolo tocco! Ora è tua! No, no, non puoi metterla con questi vestiti! Ecco! Ora sei un vero vampiro! E io indosserò quella che mettevo quando andavo ancora in ufficio! Sembri così stupido! Wow, ho avuto questo aspetto per tre anni! Tutti a scuola saranno pazzi di me perché sono super elegante! Sei così romantico! Solo con te! Mamma, questo è per te! È imbarazzante! Oh, piccola, è così carino! Ha così tanto talento, guarda! Papà, questo è per te! Il mio ragazzo! Oh, che schifo! Mi stai solo copiando! Io voglio più bene alla mamma! No, sono io che voglio più bene al papà! Oh, cosa sei? Uno stupido pappagallo? Ragazzi, scrivete nei commenti chi amate di più, la mamma o il papà! Ah, che posso ascoltare? Oh, ora non avrai più niente da ascoltare! Ehi, ma che stai facendo? Ora va meglio! Ma cosa hai fatto? Sei fuori di testa! Lasciami in pace! Strambo! Basta! Mamma, guarda cosa ha fatto ai miei cd! Hai visto? Dammeli! Ho un'idea! Basta un po' di immaginazione! Cos'è? Wow, è così figo! Mamma, grazie! Non vedo l'ora di giocarci! Oh, fallo rotolare fin qui! Ok, prendi! Wow, sono così felice che non stiate più litigando! Troom, trum, tric! È una figata, papà! Certo che lo è! Oh, che altro mi rimane da fare? Cos'altro mi rimane? Volare, ma certo! Tesoro, guarda qua! Che schifo! Li hai cucinati tu? Oh, però sono più buoni di quanto sembrano! Forza, amore, mangia! Vuole avvelenarmi o cosa? Se i palloncini volano, allora posso farlo anch'io! Li legherò a me! Wow! Cosa? Papà, aiuto! Aspetta! Ah, userò queste! Preso! Mi hai spaventato! Figlio, tu sei un vampiro! Non hai bisogno di palloncini! Troom, trum, tric! Diventa un pipistrello e sbatti le ali! Sì, ho capito! Grazie! Finalmente siamo solo io e te! Questo è per te! Cos'è? Orecchini? Perché sono così strani? Beh, quando li ho comprati erano una collana! Tesoro, hai visto la mia collana? No! Che bambina cattiva! Cara, non preoccuparti! Va tutto bene! Devi solo rilassarti! Ora sto bene! Basta così! Tesoro, dalla tua madre! Trasformiamolo in un bel top! Aggiungiamo del tool! E usiamo le parti rimanenti della mia collana! Semplicemente meraviglioso! Allora, lo vuoi provare? È così bella! Grazie! Queste dalle a me! Non sono un giocattolo! Questo outfit dimostra che sono dolce e simpatica! Adoro le ristrutturazioni! Mamma, posso aiutarti? Sei pronta? Sono sempre pronta! Ehi, che succede? Perché mi stai dipingendo? Ma che bel rullo! Io so come usarlo! Troom, trum, trick! Seguimi! Ricordi la nostra lista! Una vera sirena dovrebbe avere le squame! Allora che ne pensi? Wow, è una figata! Lo sapevo! E ora il viso! No, 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 no! Per quello abbiamo il trucco! Più in fretta, presto! Cosa? Ti abbiamo fatto uno scherzetto! Ok, ragazzo, vai da tuo padre! Torniamo al trucco! Sii seria, per favore! E ora puliamo un po' la tua pelle! I tuoi pori torneranno a respirare! Grande! Sono pronta? Abbiamo appena iniziato! Wow, sono così bella! Figa, eh? Oh, sì! Ora sono irresistibile! Torniamo a giocare! Oh, la coda! Come abbiamo potuto dimenticarci, ne creiamone una! Dove l'ha messa? Era in cima alla lista! Oh, l'ho trovata! Guarda, tesoro, questa è la mia coda da ballo! E sarà perfetta per te! Cosa avete lì? Cos'è? Mamma, ma tu eri una nerd! Cosa avete da ridere? Non posso crederci! Sei davvero tu! Non è divertente! Credi che questo sia divertente? Guarda tuo padre! Oh, wow, anche tu eri un nerd! Non c'è niente di divertente! Oh, tesoro, non ti offendere! Piccola, provala! Presto papà starà bene! Avanti, fammi vedere! Mamma, è incredibile! È proprio come te! Buonanotte, piccola teppista! Hooligans! Proprio quello che volevo! Ancora non ne hanno idea! Trum, trum, trick! Dimenticherete di essere un vampiro e una sirena! E nessuno potrà aiutarti! Che succede qui? I nostri bambini! Oh no, devo scappare! Tesoro, guarda! Mamma, che c'è che non va in noi? Ho paura! Tesoro, ascolta! Io so come fare! Tieni, Kat! Oh, sì! Seguitemi! Figliolo, vuoi essere come me? Sì! Che incubo! Non sei mica un lupo mannaro! Non puoi andare in giro con questi artigli! Ti servono unghie davvero vampiro! Cosa hanno di speciale? Che significa? Ops, ho sbagliato mano! Eccola qui! Figa, no? Vuoi avere le stesse unghie? Posso farlo anch'io! Non mangiarti le unghie! Ho un gadget speciale! Assolutamente igienico! Questa è la migliore invenzione dopo la lima per le unghie! Grazie, papà! Nessun problema, amico! Siamo un passo avanti! Ok! Oh, che bella! Quale posso scegliere? Credo di aver trovato la parrucca più originale! Oh, smettetela di guardarmi così! Oh, è tutto appiccicoso! Oh, è disgustoso! La mia faccia! Vattene da qui avanti! Oh, è così sensibile! Questa acconciatura non va affatto bene! Oh no! Ho solo peggiorato la situazione! Oh, finalmente l'ho tolto! Ehi, ti serve aiuto? Come hai fatto? Questa acconciatura è un rompicapo! Non puoi andare in giro così! Kat penserà che sono stato io! Che ci falle qui, signorina Anchoby? In realtà è tua figlia! Allora cos'ha che non va? Sei stata avvolta da un'elica? Mi dispiace, è colpa mia! Oh, le mie zanne! Tesoro, ora li sistemiamo! Oh, almeno li copriremo! Fantastico, mi sta davvero bene! Oh, facciamo anche le trecce! Sì, questo gadget ti trasformerà in una bellezza molto velocemente! Guarda qua! Ora, usiamo una porcina! E il tuo nuovo look è pronto! Grazie, mamma! Ti sta davvero bene! Sono la migliore! Come va, amico? Voglio volare! È troppo presto, ma ecco, possiamo provare a fare qualcosa! Guarda qua! Wow, che figo! Sì, queste sono le mie ali da bambino! Non le vedevo da tanto tempo! Provale! Wow, certo, papà! Poi potrò volare! Sì, non avrai bisogno di una bara per ora! Torno subito! Io intanto mi eserciterò! Wow! Oh! Ma non volare troppo in alto! Ho una licenza per questo! Ne avrò una anch'io! Prima dovrai superare l'esame della scuola per vampiri e dovrai aspettare! Ok, vediamo cos'altro mi serve! Una coda! Oh, forse dovrei farne una io! È facile! Esattamente quello che serviva! E ora ho bisogno delle pinne! Perfetto! Credo che queste vadano bene! Due! Basteranno! Ora ho una vera coda! La mamma sarà così orgogliosa di me! Andiamo! Wow! Un'intera collezione! Penso che non le dispiacerà se ne provo una! Uh! Sembra un tonno in scatola! Levatemele! Tesoro, sei qui! Cos'è quella? È la mia coda! Aspetta un attimo! Pablo, hai trovato il ladro! Eccomi! Cara, perché l'hai fatto? Esci di lì! Allora, raccontami tutto! Volevo essere come te e ora sono bloccata qui! Ok, piccola, penso di poter risolvere il problema! Sei pronta? L'aria calda farà sì che la coda si restringa e diventi della tua taglia! E ora aggiungiamo un po' di personalità! Trum trum trick! È bellissima! Grazie, mamma! E non è tutto! Penso che questi eleganti manicotti ti staranno benissimo! Chiameremo questo stile Ocean Grunge! Ti piace? E naturalmente aggiungiamo qualche decorazione marina! Pavolosa! Sì! Sei la migliore! Sono perfetto! Voglio anch'io quell'acconciatura! Spero di poterla fare! Oh, il gel di papà! Chissà se è magico! Bagniamo i capelli e passiamo allo styling! Che è successo? Aspetta! I capelli sono ancora qui! Iniziavo a preoccuparmi! Oh, no! Il po' non è bastato! Tesoro? Vuoi venire un attimo? Dobbiamo asciugare i capelli! E non possiamo farlo senza di te! Ci aiuterai? Nessun problema! Tipone! Wow! È troppo! Figlio, stai bene? È come se fossi sulle montagne russe! Tesoro, ok! Basta, è già asciutto! Ti prego, smettila! Ancora? Congratulazioni! Oggi è il compleanno di qualcuno! Buon compleanno, tesoro! Voglio i regali! Hai espresso un desiderio? Puoi spegnere le candeline! Non posso! Ti aiuto io! Non è il tuo compleanno! Prova di nuovo e più forte! Forza! Wow! Penso che tu abbia perso qualcosa! Troom trum trick! Abba ti aiuto la fatina dei denti! Questo è per te!